Questo programma è offerto da Tragedia questa mattina ad Agropoli Corpi di un pizzaiolo 63enne della moglie di 20 anni più giovane Sono stati trovati privi di vita in casa L'ipotesi omicidio o suicidio dopo una violenta lite E' stato rinvenuto in strada senza vita il corpo in pigiama del 51enne Che ha tentato gettandosi dal balcone di sfuggire a un agguato in casa sua Era considerato un esperto in rapine e furti di moto Ipotesi, ritorsione Violento schianto nella notte a Socondigliano Una BMW con a bordo 6 persone guidate da una giovane senza patente Ha provocato incidenti a catena 5 persone Sono state ferite E' stata trascinata sul marciapiede per diversi metri Nel tentativo di rubarle il cellulare Vittima una trentenne presi due responsabili Si tratta di un 48enne e di una 19enne inchiodati dalle impronte digitali Dalle Maldive a Dovara in vacanza Ai domiciliari catturato 29enne Sfuggito ad una maxi operazione dell'antimafia contro il narcotraffico Fermato a Fiumicino il tempo di ritirare i bagagli ed è stato arrestato Due ventunenni ex calciatori del Benevento Sono stati arrestati per aver picchiato a Torre Annunziata A un 19enne aver aggredito i carabinieri Tutti i protagonisti della vicenda hanno parentele con la malavita A 30 giorni dalla precedente diffida contro il Ministero De Luca Ricorre al Tar controfitto per sbloccare i fondi sviluppo e coesione Destinati al Sud chiesto lo sblocco di 6 miliardi alla Campania In Arabia Saudita va a caccia il trofeo Stasera la sfida all'Inter nella finale di Supercoppa Mazzarri pronta a confermare all'inizio agli 11 titolari che hanno battuto la Fiorentina Piovuti snack e calcinacci in campo Per il momento nessuna diffida Per il caso a Reiki in Lega Pro Offre la Juve stabile l'Avellino a Corciala in vetta Stasera alle 21 contatto sport con ospite il direttore Giorgio Perinetti Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV Tragedia questa mattina da Gropoli in provincia di Salerno I corpi di un pizzaiolo di 63 anni e della moglie di 20 anni più giovani Sono stati trovati privi di vita in casa Ipotesi, omicidio, suicidio dopo una violenta lite Avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita Il gesto poco dopo che la loro bambina di 10 anni aveva lasciato casa per avviarsi a scuola Dramma questa mattina ad Agropoli La scoperta in un'abitazione di via Gaetano Donizzetti E' qui che gli investigatori hanno rinvenuto i corpi senza vita Di un 63enne pizzaiolo di professione di sua moglie di 20 anni più giovane Impiegata di banca Sono stati vicini ad allertare il 112 in seguito alle urla Che provenivano dall'abitazione della coppia Subito dopo è arrivata la telefonata anche della mamma della donna Che ha notato che non rispondeva al telefono di casa Dopo le prime informazioni emerse Sembra che a scatenare gli eventi che hanno portato alla morte di entrambi i coniugi Sia stata una violenta lite La dinamica esatta dei fatti deve essere ancora chiarita Ma l'ipotesi più accreditata è che la discussione tra marito e moglie Sia improvvisamente sfociata in un tragico episodio di omicidio-suicidio I carabinieri della locale compagnia intervenuti sul posto hanno ritrovato un coltello con una lunga lama insanguinata Potrebbe essere l'arma con la quale l'uomo avrebbe prima aggredito la moglie Con cui poi si sarebbe successivamente tolto la vita Sul posto anche la scientifica e il magistrato di turno preso il tribunale di Salerno per chiarire la dinamica dei fatti Ed è stato rinvenuto in strada senza vita il corpo in pigiama del 51enne Che ha tentato gettandosi dal balcone di sfuggire ad un agguato in casa sua di alcuni killer Era considerato un esperto in rapine e furti di moto L'ipotesi è di ritorsione proprio per un furto avvenuto Avrebbe aperto lui la porta di casa al killer mandato per ucciderlo Un agguato molto probabilmente motivato dalla vendetta per qualche offesa arrecata ai clan Che si dividono alla gestione della zona compresa tra i quartieri Poggio Reale, Secondigliano e San Pietro Appatierno E Raffaele V, la vittima dell'agguato avvenuto nel weekend in via dello Scirocco Il cinquantenne era già noto alle forze dell'ordine e aveva accumulato negli anni un curriculum giudiziario piuttosto nutrito Con reati contro la persona e contro il patrimonio Sarebbero otto i bossoli ripetati dalla polizia scientifica all'interno dell'abitazione di cinque Ma nessuno di questi gli sarebbe stato fatale L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe aperto la porta al sicario Ma una volta ferito da una pallotto, l'avrebbe tentato di dileguarsi, ma era alle strette L'unica opzione rimasta gli saltare giù dalla finestra, tentando il tutto per tutto Sarebbe stato quel volo a risultargli fatale, con un impatto al suolo che gli avrebbe provocato una ferita mortale alla testa Cinque, secondo le ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato vicino agli ambienti camorristici del clan Contini Ma non membro organico dell'alleanza criminale Sulla sua morte, che probabilmente si incastra nella costellazione di eventi violenti e tensioni criminali Che fermentano nel napoletano, indagano ora gli agenti della squadra mobile di Napoli Violento incidente stradale a Napoli in Viale Umberto Maddalena, secondigliano intorno alla mezzanotte Una BMW con targa svizzera con a bordo sei persone guidata da un napoletano di 23 anni Il risultato poi senza patenti ha causato una serie di eventi che hanno coinvolto una pompa di benzina e un'auto in transito Una BMW con targa svizzera senza controllo distrugge una pompa di benzina a secondigliano Poi si schianta in retromarcia contro un'altra auto che sta sopraggiungendo con quattro persone a bordo Ci sono cinque feriti, uno è il conducente della BMW, un 23enne napoletano, risultato poi senza patente ed è gravissimo Ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli Secondo una prima ricostruzione, sembra che la BMW con targa svizzera condotta dal 23enne Si sia fermata l'istributore di carburante per fare rifornimento a bordo assieme a lui Ci sarebbero state altre persone Un altro 23enne passeggero sul sedile anteriore Mentre su quello posteriore sarebbero seduti le compagne dei due uomini Una bimba di tre anni, figlia del conducente Il fratello del passeggero e una bimba neonata La dinamica di quanto avvenuto è ancora in fase di ricostruzione Secondo i primi accertamenti pare che il conducente sia sceso dall'auto a stima al passeggero sul lato guida Per fare rifornimento, ma forse per un errore di stazionamento La BMW senza controllo avrebbe cominciato a scendere per la strada in retromarcia Il passeggero sarebbe immediatamente rientrato all'abitacolo per cercare di fermare l'auto Ma probabilmente per una manovra errata la vettura avrebbe preso invece più velocità La portiera anteriore dell'auto, che era rimasta aperta a quel punto Avrebbe colpito violentamente il conducente che sarebbe stato sbattuto al suolo Un impatto molto forte, tanto che il 23enne, come detto, è ricoverato al Cardarelli Nella folle corsa poi la BMW avrebbe anche distrutto una parte dell'ufficio della pompa di benzina L'auto poi improvvisamente avrebbe ruotato su se stessa per motivi ancora non chiari Andando ad invadere in retromarcia la carreggiata alla quale era arrivata E andandosi a schiantare con la parte posteriore della BMW Contro la parte anteriore della Yaris Che stava sobraggiungendo sulla strada dal lato precedentemente percorso alla BMW Gli occupanti della Yaris, condotta da un 22enne, sono tutti e quattro feriti lievemente Sono in corso ulteriori indagini per chiarire meglio quanto avvenuto È stata trascinata sul marciapiede per diversi metri nel tentativo di rubarle Il telefono cellulare vittima una trentenne presi due responsabili Fondamentale un'impronta digitale sullo scooter Ritrovato si tratta di un 48enne e di un 19enne I carabinieri del nucleo operativo di Napoli-Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Un 19enne di Ponticelli e un 48enne domiciliato a Milano Entrambi già noti alle forze dell'ordine Sono ritenuti gravemente indiziati di una rapina impropria commessa a Piazza Garibaldi a Napoli E danni di una trentenne a passeggio sul marciapiede Il 19enne era alla guida di uno scooter Mentre il passeggero ha agguantato il cellulare della vittima Che nel tentativo di trattenerlo è stata trascinata per diversi metri I due rapinatori sono poi fuggiti Sfruttando anche aree pedonali della piazza I militari in transito con un'auto civetta hanno inseguito i due Fino al quartiere Forcella dove sono stati costretti ad abbandonare lo scooter Le loro tracce si sono perse ma un'impronta digitale Rilevata sul contachilometri del veicolo E la visione delle immagini di videosorveglianza Hanno consentito ai carabinieri di identificare i due Ora sono sottoposti a fermo in attesa dell'udienza di convalida Dalle Maldive dove era in vacanza ai domiciliari Catturato 29enne è sfuggito ad una maxioperazione Della DDA contro il narcotraffico internazionale Tra Olanda, Spagna e Napoli Atterrato a Fiumicino Il tempo di ritirare i bagagli Dalle Maldive ai domiciliari Catturato 29enne è sfuggito alla maxioperazione Del 16 gennaio scorso E' finito in manette appena il suo volo Proveniente dalle isole tropicali Ha toccato terra I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli Coordinati dalla DDA Partenopea Lo hanno aspettato al termine All'arrivi all'aeroporto di Fiumicino Il tempo di recuperare i bagagli E poi il trasporto immediato nella sua abitazione Dove è stato sottoposto ai domiciliari L'uomo è tra i 29 indagati Coinvolti a vario titolo Nell'importazione su larga scala Di stupefacenti dall'Olanda E dalla Spagna verso le piazze di spaccio Più fiorenti della provincia napoletana Una gestione del narcotraffico Passata attraverso chat E telefoni criptati Inizialmente ritenuti inattaccabili I carabinieri hanno monitorato Gli spostamenti del 29enne Scoperto che era in vacanza alle Maldive Hanno atteso il suo rientro nello scalo romano E lo hanno catturato In particolare dall'attività di indagine Che ha portato poi alla maxi operazione Nel 16 gennaio Sarebbe emersa la presunta operatività Di due distinte associazioni per delinquere Operanti nel territorio partenopeo Con contatti Spagna e Olanda Finalizzati all'approvvigionamento Al traffico Alla vendita di sostanze stupefacenti Nonché la conseguente gestione Degli illeciti profitti in favore degli affiliati Sia liberi che detenuti Due 21enni ex calciatori del Benevento Sono stati arrestati per aver picchiato A Torre annunziata un 19enne E una volta arrivati i carabinieri Hanno aggredito anche loro Tutti i protagonisti della vicenda Hanno parentele con la malavita Due ex calciatori del Benevento Entrambi 21enni Sono finiti agli arresti domiciliari Dove aver aggredito un loro conoscente Per futili motivi La vicenda ha visto coinvolti Un trequartista che aveva esordito In serie B ed un terzino destro La violenta aggressione è avvenuta Nelle strade di Torre annunziata Dove due calciatori residenti a Scafati Avrebbero malmenato un 19enne Ritenuto vicino agli ambienti Del clan Giunta A cui entrambi erano collegati Tramite parentele I carabinieri impegnati In un controllo notturno Sono intervenuti tempestivamente Per sedare l'aggressione al giovane Ma i due calciatori Non si sono fermati Neanche alla vista degli uomini in divisa Sferrando addirittura calci Ai carabinieri stessi L'accusa di aggressione Resistenza pubblico ufficiale Ha portato all'arresto di entrambi Con il procuratore di Torre annunziata Che ha disposto agli arresti domiciliari Successivamente convalidati dal giudice La carriera dei due giovani talenti Ha subito una battuta d'arresto Con la rescissione consensuale Del contratto per il trequartista Giunta due giorni dopo l'arresto Mentre il compagno Già svincolato al novembre precedente Ha visto terminare ogni rapporto Con il benevento Le indagini stanno cercando Di chiarire il movente Dell'aggressione E capire perché i due Si trovassero nel cuore di Torre annunziata Nonostante la loro residenza Fosse ascafati Il contesto familiare De uno degli arrestati Cela una pesante parentela Con uno zio In passato sospettato Dell'omicidio Del cronista Giancarlo Siani Successivamente scagionato Ma condannato Per altri omicidi Di Camorra Un particolare Che aggiunge Un'ulteriore sfumatura Drammatica A questa storia Sulla quale Continuano le indagini Da parte dei carabinieri In Arabia il Napoli Va a caccia del trofeo Stasera la sfida All'Inter Nella finale di Supercoppa Mazzarri pronto a confermare Dall'inizio Gli undici titolari Che hanno battuto La Fiorentina C'è grande attesa Per la finale di Supercoppa Tra Napoli e Inter Ariad Dopo la bella prestazione Del Napoli Contro la Fiorentina I tifosi azzurri Sperano che loro Beniamini Possano alzare il trofeo E risollevare Almeno in parte Una stagione Che fin qui È risultata fallimentare E Mazzarri Che conosce bene Il valore del match In conferenza stampa A parso carico Motivato E vuole vincere La Coppa a tutti i costi Per la squadra Dice la finale Importante Sono ragazzi bravi E giovani Che hanno vinto lo scudetto Sanno che non è facile Giocare questa Supercoppa E hanno l'ambizione Di vincere il trofeo È un'arma E lo ricorderò Nello spogliatoio Prima della gara Contro l'Inter In campionato Il Napoli Ha avuto un possesso Palla superiore Ma poi ha perso 3-0 Trafitto dal contropiede Nei Nero Azzurri Ma ogni match Fa storia a sé Il mister lo sa Ed è per questo Che carica l'ambiente Anche se dovrà fare La conta con i giocatori Che ha a disposizione Mancano due titolari Come Anghissa e Osimen Ma il mister ha fiducia In Simeone davanti E in Cajus Che sta meglio Ed è pronto a giocare A centrocampo Mentre Zelischi Parte in panchina Pronto a fare Le valigie Proprio per passare Ai Nero Azzurri Il Napoli È stato raggiunto Da due volti nuovi Il talento Ex Verona Ngonge E l'ex Sassuolo Traoré Con Gonge Dice il tecnico Ho parlato Cinque minuti Ma mi ha detto Di essere pronto E disponibile Se gioca qualche minuto Non avrà problemi Traoré invece Deve fare una mini preparazione Per la seconda fase Della stagione Lo aspettiamo Nessun favorito Quindi per la vittoria Della Coppa Una parola Che in una finale Non esiste A detta di Walter Mazzarri Non resta Che giocarsela Fino alla fine Pioggia di oggetti A Salerno Dopo il gol Di Matteo Reteghi Il momentaneo 1-1 Segnato Dal centroavanti Del Genova Al dodicesimo minuto Mentre l'attaccante Sta esultando Uno snack Lanciato dalla curva Granata Lo colpisce in testa Il centroavanti Si getta un attimo A terra Senza capire Cosa gli sia successo Subito dopo Senza far polemica Si rialza E corre Verso il centrocampo Facendo Cenno Cenno alla panchina Che non ci sono problemi La merendina viene raccolta Dal centrocampista del Genova Struttmann Che provocatoriamente La mangia Un calcinaccio Pochi istanti dopo Raggiunge il campo da gioco Senza colpire nessuno L'arbitro raccoglie E lo ha consegnato A quarto uomo Nel Tg Sport di oggi Torneremo sul Napoli E sulla Salernitana Ma tanto spazio Alla Serie C Ravellino domina Foggia E pensa al mercato Dopo aver accorciato In classifica Piazzandosi a quattro punti Dalla capolista Juve Stabia Stasera A contatto sport Dalle 21 Il direttore dell'area tecnica Bianco Verde Giorgio Perinetti Nuovo palazzetto Dello sport Spunta L'ipotesi Della Gian Turco Per il Mario Argento Dopo l'accordo Con la Federnuoto Per la piscina Scandone Sembra plausibile La ripresa dell'impianto A dicembre La provocazione Del governatore De Luca La prospettiva Dell'essere capitale Europea dello sport 2026 Sta riportando L'attenzione a Napoli Sulle condizioni In cui versano I centri sportivi E le palestre Della città E della provincia L'accordo Firmato con Federnuoto Per la gestione Della piscina Scandone Ha dato speranza Anche ad altri Cinque centri Le piscine di Carlo Poero E Marco Rocco Di Torre Padula Avranno accesso A un milione di euro Del bilancio comunale Per mettere in campo Interventi di rivitalizzazione Mentre 10 milioni Entro il 2026 Saranno stanziati Per la prota Giurleo La galante E la piscina comunale Di Secondigliano L'idea Dei sei impianti In gestione Alla fin Ha dato il là Per tentare Iniziative simili Sul fronte Della ginnastica E dell'atletica E infatti In discussione Un accordo Per la gestione Della palestra Del pala Vesuvio Com'è in fase Di valutazione L'apertura Di un nuovo Pala Argento Potrebbe avere Sede a Bagnoli Nell'area dell'Exit al Sider Oppure a ridosso Tra via Gianturco E il rione Luzzatti Quest'ultima Sembrerebbe L'ipotesi Verso cui Propenderebbe Il comune Ma al momento Non ci sarebbero Piani effettivi Per la realizzazione Del palazzetto Dello sport Quanto al collana Di via Ribera Entro l'estate Dovrebbe partire La ristrutturazione Della pista da corsa E della piscina Mentre con lo sblocco Dei fondi Feser Si proseguirà Con interventi Più importanti Per un costo Stimato totale Di 40 milioni In tempo per gli eventi Di Napoli Capitale europea Dello sport Da fare Però c'è ancora molto Sul palastadere Sul pala Dennerline Per esempio Servirebbe Un impegno radicale Mentre ci sono Almeno un'altra Trentina di impianti Di proprietà Del comune Che andrebbero Manutenuti E gestiti In maniera migliore Napoli Però Sembra avere Più che mai fame Di sport E i primi passi Mossi negli ultimi giorni Potrebbero essere Di buon auspicio Per i lavori In vista Della consacrazione Della città A capitale europea Dello sport Per il 2026 Ed ora Ci fermiamo Per una breve pausa Tra poco Restate con noi Ben ritrovati Per la seconda parte Della telegiornale Allo scadere Di 30 giorni Previsti Nella precedente Di fida È stato presentato Oggi Come annunciato Dalla presidente Vincenzo De Luca L'esposto denuncia Contro il ministro Raffaele Fitto In relazioni al blocco Da parte Del ministero Della coesione Da oltre un anno e mezzo De fondi di sviluppo E coesione Destinati al sud La denuncia È stata presentata In sede di giustizia Amministrativa Contabile e penale Il presidente De Luca Rinnova Al ministro Fitto L'invito Ad un confronto Pubblico Terzo sabato Del mese Dedicato alle visite Guidate Del Palazzo Reale Di Napoli Laboratorio di restauro Depositi di arredi Opere d'arte Luoghi inediti Da scoprire Grande afflusso Di turisti Come ogni terzo sabato Del mese Il Palazzo Reale Di Napoli Propone l'iniziativa Il sabato Dei depositi Visite guidate Depositi di arredi E opere d'arte Il personale Del museo Accompagnato I visitatori Attraverso Percorsi Solitamente Non accessibili Al pubblico Che prevedono Alternandosi Un mese La visita guidata Al deposito Quadri E al laboratorio Di restauro E un mese Al deposito Foriera Dove Sono riposti Gli arredi Del palazzo E' stato possibile Visitare Il laboratorio Di restauro E l'attigo Deposito Quadri Nel piano Ammezzato Dell'edificio Ritornato in funzione Nel 2014 A seguito Di importanti Lavori Di ristrutturazione Mare libero Per tutti Vogliono fermare Le concessioni Balneari Sul litorale Partenopeo I manifestanti Che si sono radunati A Napoli Una settina Di protesta Organizzato Dagli attivisti Mare libero Napoli Davanti Alla sede Dell'autorità Portuale Un danno Erariale Come dice La stessa Comunità Europea Il maltempo Non ha fermato Attivisti e attivisti Dell'organizzazione Di tutta l'ambientale Mare libero E gratuito Che questa mattina Hanno consegnato Personalmente Una lettera Di diffida All'autorità Portuale Di Napoli Un appuntamento Che a poche settimane Dalla loro ultima azione Di protesta pubblica Rinnova Per il 2024 La loro volontà Di impegnarsi Per ottenere La fine Della privatizzazione Del mare Una battaglia lunga E impegnativa Come ci ha spiegato L'attivista Rosario Nasti Stiamo facendo da anni Una battaglia Sul diritto al mare Perché questa è una città Praticamente Dove Non è possibile Accedere al mare Liberamente Tutto Il territorio E la linea costiera È completamente Privatizzato Solo il 4% Delle spiagge È libera E che significa Che praticamente Sono inaccessibili Perché con una popolazione Di circa 2 milioni Di abitanti Esclusa Insomma La provincia Il 4% Delle spiagge Sono impraticabili Nel documento Consegnato a mano All'autorità portuale E già inviato Alle rappresentanze Istituzionali Del territorio L'organizzazione Ha chiesto L'annullamento Dell'estensione Delle concessioni Dei maniali marittime A scopo turistico Una proroga Che oltre a produrre Un danno erariale È stata anche Ritenuta illegittima Dalle corti Della comunità europea Certo di più Mario Avoletto Dell'organizzazione Di tutela ambientale Mare libero e gratuito L'Italia è sotto infrazione Perché appunto Non si svolgono Gare regolari Per l'assegnazione Della costa Ci sono concessionari Che Da oltre 90 anni Come nel caso Napoletano Anche del Bagno Elena Gestiscono Costantemente Queste spiagge Il problema È che non le gestiscono Fornendo semplicemente Servizi Ma occupano Di fatto La nostra costa Solo il 5% Della costa napoletana È liberamente Accessibile Oltretutto Gravata Ogni estate Purtroppo Dalle delibere Del comune di Napoli Che ne impediscono L'accesso libero E di fatto Decretano un contingentamento Attraverso Il numero chiuso Bene Noi siamo qui A ricordare Che non solo Le prologhe sono illegittime Ma che prima delle proroghe È prioritario Stabilire Ristabilire Un equilibrio Tra spiagge pubbliche E spiagge private E da parte mia È tutto Vi lascio allo sport Grazie per essere stati con noi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.